Ciao ragazzi, benvenuti alla nostra rubrica Storie da Bar Oggi vedremo perché sbagliato sminuire il vostro collega Ciao Scusa, mi vorrei chiederti una cortesia Potresti cambiarmi questo cortele perché me l'ha fatto il tuo collega Ma è veramente imbevibile, fa proprio schifo Scusa, mi ha solito imbranato, non ti preoccupare, ci penso io Ciao Ciao Scusa, mi potrei chiederti una cortesia? Ho preso questo cocktail ma fa veramente schifo Non si può bere, l'ha fatto il tuo collega, non so cosa ci ha messo dentro E niente, capita anche meglio di sbagliare Comunque lo rifaccio subito Comportandovi come nel primo caso Non solo sminirete quello che è il lavoro del vostro collega Abbasserete anche il prestigio del vostro locale E di conseguenza anche il vostro Comportandoci invece come nel secondo caso Rispetterete quello che è il lavoro del vostro collega E offrete un servizio, un'alternativa al cliente che era rimasto insoddisfatto Se vi è piaciuto il video scrivetecelo nei commenti Grazie a tutti Grazie per la visione!